Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePah17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo video dedicato a Camp Cretaceous. Oggi vi riassumerò brevemente la quinta e ultima stagione di questa meravigliosa serie tv uscita proprio alcuni giorni fa su Netflix. Non vi dico nient'altro, vi auguro soltanto buona visione! Nel primo episodio Daniel Kohn scopre che suo figlio è ancora vivo e lo abbraccia per la felicità. Ha prese tutte le malefatte di Cash nei confronti dei ragazzi e della dottoressa May e annullato un tentativo di tradimento nei suoi confronti da parte dell'ingegnere, il signor Kohn ordina i Bradix di arrestarlo e rinchiuderlo. I ragazzi si recano presso la suite degli investitori per rilassarsi e darsi una ripulita. Brooklyn, nonostante le buone intenzioni, non si fida del padre di Kenji, proprio perché è proprietario della Manta Corp. L'uomo comunica ai ragazzi che torneranno presto a casa, ma purtroppo non subito, per evitare che la posizione dell'isola diventi di dominio pubblico. Nel frattempo Darius si accorge che Bigiti non mangia per il fatto che sente la mancanza dell'altro T-Rex. Sammy e Brooklyn vanno a trovare Cash, che rinchiuso in una specie di cella trasparente, riconosce la ragazza e le rivela che se vuole avere informazioni sulla sua famiglia, le conviene recarsi presso l'ufficio del signor Kohn per indagare. Kenji racconta a suo padre cosa gli è successo su Isla Nublar, mentre quest'ultimo, distratto, si occupa di riparare dei droni malfunzionanti con l'aiuto di un Brad. Lo informa che tra due giorni c'è un incontro con degli investitori per ottenere dei finanziamenti con cui mandare avanti il progetto. Farà combattere di nuovi dinosauri per non rischiare di perdere tutto. Kenji, dopo essere stato attaccato da un veloci raptor, ha dei dubbi al riguardo. Sammy, con l'aiuto di Brooklyn, riesce a infiltrarsi nell'ufficio di Kohn, a scoprire che Ren ci ha finito nelle sue mani prima di essere scoperta con l'amica da quest'ultimo. L'uomo rivela che la sua famiglia sta bene e che ha firmato un contratto per rifornire costantemente l'isola di cibo per gli animali. I ragazzi, appreso da Kenji che suo padre vuol far combattere i dinosauri, studiano insieme un piano per proporre all'uomo un'idea alternativa. Lo conducono nel bioma della foresta. Iaz e Ben svegliano Little Itty che inizia a inseguirli, mentre Darius e Kenji provano a liberare Big Itty e a comunicare con lei. Spaventato per la sorte del figlio, Daniel Kohn interviene e ordina ad un Brad X di attaccare il dinosauro che si infuria. Darius prova a calmare il T-Rex e Brooklyn ruba il tablet all'uomo per evitare che faccia ulteriori danni. Big Itty viene liberata, si ricongiunge alla figlia e insieme dimostrano al signor Kohn che non sono solo dei predatori senza cervello. Sorpreso da tutto ciò che ha visto, Daniel Kohn decide di non far più combattere gli animali tra loro e ringrazia il figlio per averglielo impedito. Ora preferisce puntare tutto sulla ricerca di May e libera Cash per fare in modo che i due possano collaborare insieme su un nuovo progetto. La dottoressa si rifiuta, ma lui la obbliga tramite ricatto. Il giorno dopo i ragazzi si ritrovano per fare colazione e Kenji gli rivela che suo padre gli ha affidato un incarico molto importante in vista dell'arrivo degli investitori. Propone poi a Brooklyn un appuntamento e la ragazza molto felice accetta. Darius, Ben e Brooklyn poi, non fidandosi ancora del signor Kohn, decidono di seguirlo nella giungla, fino al magazzino dove sta sviluppando con May e Cash il nuovo progetto. Ordina la dottoressa di allontanare i ragazzi che se ne vanno, ma rimangono stupiti dal comportamento della donna. Kenji parla con Yaz e Sammy, comunica loro del suo appuntamento con Brooklyn e le due ragazze entusiaste si offrono di dargli una mano. Ben, Brooklyn e Darius, insospettiti dalle parole di May, si recano presso il recinto dei cuccioli per indagare. Mentre Kenji sta sistemando le ultime cose, suo padre lo invita alla riunione con gli investitori, ma lui gentilmente declina per vedersi con Brooklyn. Si scopre che Cash è sparito e Darius, Ben e Brooklyn notano dei droni posizionati in modo particolare nel bioma della foresta. Gli investitori arrivano sull'isola e Daniel Kohn gli dà il benvenuto. I ragazzi scoprono che a Big E.T. contro la sua volontà è stato iniettato un chip che permette a Cash di controllare tutti i suoi movimenti con un joystick. Intanto il signor Kohn consegna a Kenji un vestito per fare bella figura con Brooklyn. Mentre ritornano alla struttura centrale, la ragazza, Ben e Darius vengono attaccati da una coppia di velociraptor che li rallentano, e poi anche da Little E.T. che cerca di impedirgli di entrare nell'edificio. Kenji, deluso dal fatto che Brooklyn non si sia presentata, decide di raggiungere con il padre gli uomini d'affari. Arrivata tardi all'appuntamento, Brooklyn trova un fiore giallo per terra. Insieme ai suoi amici inizia a pensare di aver deluso il ragazzo e perso la fiducia di Kenji per sempre. Nel frattempo, Brandon, il fratello di Darius, per ritrovare il ragazzo decide di rivolgersi a due esperti di Isla Nublar e Jurassic World, Roxy e Dave. Brooklyn prova a parlare con Kenji per sistemare le cose e rivela quest'ultimo i piani del signor Kohn. Il ragazzo non le crede, nonostante il gruppo cerchi di farlo ragionare. Prova a parlare con suo padre che gli rivela che Cash lavora ancora per lui. Per il signor Kohn, il progetto è importante perché potrebbe aiutarlo a ottenere dei nuovi finanziamenti da utilizzare per proteggere i dinosauri dell'isola. Per allontanare ancora di più il figlio dal gruppo, gli propone di diventare suo socio e svela che Brooklyn e Sammy sono entrate senza permesso nel suo ufficio per indagare su di lui. Nel frattempo, i ragazzi provano ad infiltrarsi nel magazzino per aiutare May e ottengono delle informazioni e delle batterie con cui disattivare i chip installati nei dinosauri. Un Brad X impazzito infine gli permette di fuggire, non notati da Cash. Decisi comunque a fermare Kohn, si recano all'appuntamento con gli investitori per farlo saltare. Nel frattempo, Cash, nonostante abbia fatto quasi tutto il lavoro, viene stromesso dal progetto. Kohn presenta ai suoi ospiti la sua grande idea, dinosauri controllati tramite un chip e un telecomando, svelandogli che proprio tramite un joystick possono fargli fare tutto quello che vogliono. Darius, Yaz, Brooklyn e Sammy, seguiti a distanza da Cash, riescono a raggiungere gli uomini da pari, mentre stanno facendo combattere tra di loro i dinosauri e a liberare lo spinosauro e il T-Rex, che divorano due di loro. Cash prova a rubare al terzo il telecomando che controlla i veloci raptor, ma Yaz e Sammy ne approfittano per liberare i due animali, che attaccano immediatamente l'ingegnere, uccidendolo. Kohn rischia di venire schiacciato dallo spinosauro e Kenji riprende il controllo della situazione utilizzando i droni, sfogandosi infine con i suoi amici per aver fatto saltare l'affare, o quasi. Una donna è sopravvissuta e dopo aver parlato al telefono, rivela a Kohn che la Biosin è interessata all'affare e vuole incontrarlo su Isla Nublar. Nel frattempo, con l'approvazione del figlio, rinchiude gli altri ragazzi in cella per evitare che creino altri problemi. Kenji, il signor Kohn e Mei tornano su Isla Nublar e raggiungono il luogo dell'incontro, ovvero l'edificio dove i ragazzi erano stati attaccati dai monolofosauri. Riappare il mercenario Hawks, già incontrato durante la terza stagione, che ora lavora per la Manta Corp. Mentre i ragazzi le provano tutte per scappare, Darius riesce a trovare una via di fuga sotto il pavimento della cella. Dopo aver atteso il passaggio del Bradix che li controlla, i ragazzi scappano e si ritrovano in quello che sembrerebbe un condotto di scarico. Mei prova a far ragionare Kenji sul fatto che il padre conosca molte persone cattive. Il ragazzo però non capisce al 100% cosa le stia cercando di dire e si offre di unirsi alla spedizione del padre per esplorare l'isola. Brooklyn, Yaz, Sammy, Ben e Darius vengono scoperti dai Bradix che cercano di catturarli. Raggiungono una zona con un enorme reattore che fornisce energia a tutta l'isola e vengono attaccati da un notosauro. Yaz li salva mettendo in fuga l'animale, un Bradix li raggiunge ma il notosauro lo attacca e nella lotta il nucleo rimane danneggiato. Brandon, Roxy e Dave intanto raggiungono Isla Nublar per salvare i ragazzi mentre la spedizione del signor Con cerca di catturare uno stegosauro. Darius nota che i T-Rex sono molto agitati e un forte terremoto scuote l'isola della Manta Corp e Isla Nublar. Fa cadere Kenji e Hawks in un fossato e qui vengono raggiunti da Toro. Hawks salva il ragazzo e inietta nel Carnotauro un chip per il controllo. Kenji ferma l'animale un attimo prima che divore il mercenario. Brandon, alla ricerca di Darius, incontra un Baryonyx che lo attacca ma viene salvato da Roxy e Dave. I ragazzi nel frattempo riescono ad hackerare il computer del signor Con, a prendere il controllo di tutta l'isola e a cambiare la password. Riattivano un drone abbattuto su Isla Nublar per capire cosa stia succedendo sull'isola e Brooklyn, notando che il rapporto tra Kenji e il padre è più solido che mai, impazzisce credendo di averlo ormai perso per sempre. I ragazzi la confortano dicendole che hanno un piano per fermare il duo, distruggere i chip per il controllo mentale e impedire a Con di venderli alla Biosyn. La situazione è peggiora, l'isola viene devastata da un altro terremoto fortissimo e uno dei T-Rex rimane imprigionato sotto una pianta caduta. Anche su Isla Nublar la situazione non è migliore. Kenji rimane imprigionato sotto una frana. Viene salvato da Toro che sotto il controllo del ragazzo lo libera spostando le rocce. Brandon arriva a Camp Cretaceous e lo trova distrutto. Roxy e Dave però lo rincuorano, facendogli notare un riparo creato probabilmente dai campeggiatori. I ragazzi aiutano Darius a liberare il tirannosauro mentre Lita e Liti li attacca e i due T-Rex si ricongiungono. Brooklyn prova a confidarsi con Darius che le rivela di essere rimasto anche lui deluso dal comportamento del suo ex amico. Mentre i campeggiatori sabotano le operazioni della Manta Corp sull'isola, Kenji e suo padre incontrano il malvagio dottor Lewis Dodgson, presidente della Biosyn Corporation a cui Daniel intende vendere i suoi chip per il controllo mentale. Kenji riesce a proteggere Bumpy dall'essere ridotto in schiavitù ma inizia a rimanere disilluso dalla crudeltà e dalla mancanza di cuore di suo padre. Il gruppo tenta di catturare Blue ma lei li conduce in un nido di dilophosauri da cui scappano per un pelo. Nel processo Dodgson trova e recupera accidentalmente una vecchia bomboletta di crema da barba con gli embrioni che il corrotto sabotatore Dennis Nedry aveva rubato per lui negli eventi del primo film. Il gruppo cattura e schiavizza altri dinosauri tra cui Limbo. Molina tenta di scappare con lo zaino di Dodgson prima che Kenji la fermi e venga mangiata da un branco di compi. Soddisfatto Dodgson fa un accordo con Daniel per produrre e spedire i chip alla Bios Incorporation entro due settimane. Per proteggere i dinosauri al ritorno di Daniel i campeggiatori decidono di creare un abbeveratoio per loro. Mentre Darius e Brooklyn distraggono Big e Little E.T., Yas e Ben radunano i loro amici dinosauri anche se incontrano alcuni problemi con Scintilla e due dilophosauri. Sammy entra nel tunnel per aumentare il flusso d'acqua nel punto prescelto incontrando e deludendo un sopravvissuto Brad X. Il loro piano ha successo e il gruppo si gode l'abbeveratoio con tutti i dinosauri che si radunano pacificamente. Dodgson chiede alla Manta Corp di acquisire campioni di DNA di alcuni dei dinosauri di Isla Nublar prima di partire. Durante la raccolta dei campioni, May si ritrova incantata dalla bellezza dei dinosauri liberi e tradisce la Manta Corp distruggendo tutto quanto. Kenji, dubbioso, non si fida più di suo padre dopo aver scoperto che Daniel ha catturato Bumpy nonostante avesse promesso di lasciarla in pace. Aiuta May a scappare ma sceglie di tornare indietro per non destare sospetti. Quella notte May trova Roxy, Dave e Brandon e offre loro il suo aiuto. Mentre sola con Ben, la cara Yaz ammette di avere una cotta per Sammy e il ragazzo prova ad incoraggiarla. Viene interrotta però dall'arrivo di Darius e Brooklyn. Insieme studiano un piano per prepararsi al ritorno della famiglia Conn. Un errore di sistema che inizia a chiudere a caso le porte però gli fa capire che c'è un grosso problema con il nucleo di energia geotermica e devono intervenire prima che sia troppo tardi. Si recano sul posto per sistemare le cose e vedono che la struttura sta cedendo. Il notosauro li attacca di nuovo ma viene estordito da una perdita di gas tossico e i ragazzi riescono a scappare. Preoccupati per la sorte dell'animale lo salvano e recuperano dei materiali per risolvere il problema. Darius riesce a chiudere la perdita di gas ma si accorge che qualcosa non va. Trova Brooklyn svenuta e salva la ragazza trascinandola lontano. Sammy, Ben e Yaz nel frattempo portano il notosauro nel bioma della palude. I ragazzi però, mentre parlano tra loro, vengono attaccati dall'animale che si risveglia. Dopo una dura lotta riescono ad arrivare in superficie. Il rettile attacca un dilophosauro e sparisce in acqua. Yaz e Sammy comunicano agli amici di stare insieme ma vengono interrotti dall'arrivo della barca dei Conn. Notano che sono riusciti a recuperare alcuni animali da Isla Nublar, tra cui Toro e Ben vede che hanno catturato anche Bumpy. Daniel rivela che c'è un backup dei progetti dei chip di controllo mentale in un'unità Flash nella mascella di uno dei Brad X e ordina i suoi uomini di trovarlo e catturare i campeggiatori in modo che possa ottenere la nuova password. Il gruppo si divide con Darius, Yaz e Sammy che cercano nei biomi l'unità Flash e Ben che tenta di salvare Bumpy. Sebbene riescano a trovare la chiavetta USB, Hawks li attacca con lo spinosauro e recupera l'unità ma rimane bloccato. Nello stesso momento Kenji, pieno di rimorsi, aiuta Ben a salvare Bumpy, scoprendo nel processo che distruggendo i controller possono interrompere il controllo mentale. Poi, insieme a lui e all'anchilosauro, torna dagli altri, che rimangono scioccati nel vedere il loro amico rinsavito. Viene accettato di nuovo dal gruppo, anche se Darius all'inizio è ancora arrabbiato e non è molto propenso a perdonarlo. Darius, Kenji, Ben e Bumpy uniscono le forze con i dinosauri liberi contro Daniel, i suoi mercenari e i loro dinosauri controllati mentalmente, riuscendo all'inizio a contenerli. Dopo che Sammy si rifiuta di rivelare loro la password, Daniel Cohn in prima persona riprende il controllo degli animali e mette all'angolo Little E.T. Big E.T. si unisce alla lotta, uccidendo Limbo, ma a quanto pare viene ferita gravemente dal ferocissimo spinosauro, con grande orrore dei campeggiatori. Il gruppo però si divide mentre Daniel e le sue forze li inseguono, con il risultato che il mercenario che controlla Toro viene mangiato dai veloci raptor e Darius viene messo alle strette dallo spinosauro. Kenji rivela la password al padre, ma lui ordina allo stesso lo spinosauro di mangiare Darius. Viene salvato da Big E.T. che scaccia lo spinosauro mentre Little E.T. uccide Hawks. Con il nucleo ormai in procinto di esplodere e il rilascio di gas velenoso, Daniel spaventato fugge dall'isola e Kenji rendendosi conto che a suo padre non importa di lui, rimane con i suoi amici scoprendo che avevano simulato il sovraccarico. Il gruppo distrugge gli ultimi chip di controllo mentale e libera i dinosauri, prima di essere finalmente salvato da Roxy, Dave, Brandon e May, che finalmente fanno arrestare Daniel Cohn. Due anni dopo, gli amici sono ancora molto uniti e scopriamo che Yas e Sammy vivono insieme. Ben trascorre l'estate sull'isola con May, Kenji è stato adottato dai Bowman, e la cara Brooklyn, fidanzata con Kenji, sta indagando sugli strani eventi alla grande tenuta di Benjamin Lockwood, un vecchio socio di John Hammond. Nell'ultima scena, sentendo uno strano rumore, Darius si affaccia alla finestra ed è sorpreso nel vedere un brachiosauro nelle vicinanze di casa sua. Ok ragazzi, rieccoci qua e termina così Camp Cretaceous. Non si sa per il momento se gli sceneggiatori hanno in programma di creare anche una sesta stagione di questa serie tv. In ogni caso, io mi ritengo soddisfatto, i ragazzi finalmente sono riusciti a tornare a casa e tutto si conclude nel migliore dei modi. Potremmo parlare di tantissime cose, dei vari easter egg che si vedono nei vari episodi, dei personaggi che appaiono in questa serie tv, presenti anche nelle varie pellicole uscite al cinema. Per esempio, Louise Dodgson, che appare anche in Jurassic World Dominion e quindi come la serie tv si collega ai film. Preferirei farlo però in un video a parte, in modo da poterne discutere con voi con calma. Fatemi sapere nei commenti, magari tra tutti quelli che appaiono nei vari episodi, qual è il vostro animale preferito, qual è la vostra scena preferita, il vostro personaggio preferito, il vostro episodio preferito di questa stagione. Come sempre, mi raccomando, ricordatevi anche di lasciare un bel mi piace, condividete questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi! Alla prossima, ragazzi!